Capitano Beauty che parla, passo? Sì Capitano Beauty Avvistamenti di pesci? Negativo, negativo Capitano Beauty Il speciale è bellissimo, noi ci troviamo a Parigi e questo è il premio più importante del mondo Si chiama The Best Personaggi illustri come Richard Gere, tanto per citarne alcuno, pure Ursula Andres Hanno vinto questo premio negli scorsi anni Quanti personaggi illustri che ci sono qui all'interno di questo premio The Best Una su tutte è bellissima, Ursula Andres Allora come va? Allora va benissimo Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, per fortuna Premio The Best, mi dica due parole importanti per questo egregiamente, questa serata egregiamente organizzata da Massimo Garcia Sì, adesso lei, Massimo, deve parlare di questa sera, io sono venuto a guardare le bellezze Oma Sharif al premio The Best, per me è un onore incontrarla, Miss Sharif Io credo che è veramente un grande attore, un grande personaggio, un grande uomo Senta, secondo lei, Miss Sharif, il The Best più The Best tra i suoi colleghi che lei vorrebbe questa sera magari incontrare al tavolo Sì Quale, un nome mi dica? Ma non è, ma non ho la più pallida idea Proprio non si sa Per me, guarda, il The Best è il mio figlio Ah, ecco, giusto Ecco, The Best è una donna magari che posso amare un attimo Ma il resto, va bene, è passaggero, quello tutto passa Tutto passa È femmerio, no? Certo, è molto più bello Tu puoi essere The Best stasera e domani sei più nessuno L'ultima domanda, Miss Sharif, lei è più night o più day? Io sono night Oh, finalmente un night questa sera Night sempre Sempre Io non esco della mia stanza fino alle 7, 7 e mezza della sera Quando lavoro alle 5 di mattina e dormo alle 9 e mezza Bene, quindi noi siamo più night Grazie, Miss Sharif Marina Ripa di Meana al premio The Best Negli scorsi anni ci sono stati altri personaggi illustri che sono stati premiati all'interno di questa serata così egregiamente organizzata da Massimo Garcia Ma secondo lei, una di quelle che è stata un po' non sopravvalutata oppure sottovalutata nel corso degli scorsiani Chi potrebbe essere? Una persona magari da suggerire Stendiamo un velo Non diciamo nulla? Diciamo che sono tutte meritati e va benissimo Signora Anissa, mi posso mettere vicino a lei? Per me è un onore perché è sempre più bella Qualche personaggio che magari lei voleva incontrare, qualche regista, qualche amico che purtroppo non c'è Ma papà Anzi, lo saluto Un saluto al papà Che è il The Best in assoluto Sì, The Best, really The Best Night and Day, The Best Sia di giorno sia di notte Mentre invece lei, signora Venezia, ma è più day o più night? O più night and day? Più night and day, tutte e due Perché comunque fai il lavoro, spesso è di sera, ma di giorno sono alla grande la mamma Con quattro figli, per quello sempre night and day Bene, mi ha detto che tra i paesi che lei adora c'è l'Italia Amo Italia, avevo 16 anni, prima volta che sono venuto in Italia E la gente mi vuole bene come io lo voglio bene a loro E saluto Italia Siete grandi, night and day, siete the best Sia niente, mi chiuda come ha fatto quando ha iniziato adesso Night and day, come faceva? Night and day, you are the one and only night and day Che chiusura Thank you Grazie, ciao Grazie Grazie a te, ciao Grazie Allora, oggi abbiamo l'uomo degli abissi, Luca Triolo, vai Ciao Luca Come al solito il nostro capitancica voglia di scherzare Allora, Luca ci ha parlato prima di quanto è difficile questo mestiere di sommozzatore Però adesso voglio chiederti una domanda Come si fa a mantenere pulita una torre petrolifera? Allora, la torre petrolifera diciamo che, considerando i prodotti che scaricano, quindi sono tutti prodotti che potrebbero essere di alto rischio di inquinamento Tipo qualche prodotto che potrebbe essere di alto rischio di inquinamento, a parte il petrolio, credo? Sì, vabbè, petrolio e poi petrolio raffinato, quindi benzine, gasolio, ATK, sono tutte cose che potrebbero essere inquinanti Quindi va manutenzionata nel senso di tutti, composta da delle manichette che scaricano, prendono il prodotto dalla nave, però lo scaricano tra i miei dei sirai e lo mandano a terra Quindi questo deve essere tutto super controllato, quindi periodicamente si dovrebbe andare a fare un controllo Periodicamente quando, per esempio, si fa più d'estate, magari che si pensa, o è sempre, durante tutto l'anno, credo? No, questa è la descrizione poi degli enti, i proprietari della torre petrolifera, che ovviamente sanno le varie scadenze, programmano i vari controlli, ci chiamano noi Ma siete tanti per fare tutto questo? Beh, sì, siamo, ad esempio, Cacilecchia, si appoggiano noi, e siamo 4-5 subacui, che ogni volta che ci chiamano andiamo a controllare i giunti, tutte le parti meccaniche che potrebbero essere soggetti a usura Capisco, andate sotto fino a quanti metri? Che profondità, ecco, può raggiungere una torre petrolifera? Ma secondo le zone dove è Sita, la nostra penso sia una delle più alte, perché sono 51 metri, sull'Adriatico sono un po' meno, a Fiumicino sono a 20-30 metri, quindi sono un po' varie Beh, che dire, linea Capitan DJ è la sua assistente chic Roberto Nofri e Francesca, vai! O no? Allo, allo, sì, sì, ti spiegherò, da te mi ascolto, per favore Grazie per la linea, io rito perché sembra la classica immagine da un matrimonio ad un porto italiano Cullati da questa brezza marina Che più di brezza è veramente un freddo atavico e forse anche atipico perché... Fa un po' Titanic, no? Sì, fa molto Titanic, va bene, io sono un po' più caprio che di, comunque scherzo Adesso ti faccio... È vero, è vero, non è che dia scherzi Ragazzi, scusate, chiudiamo con una canzone che piace tanto a Gianni, ok? È una canzone che a Gianni gli racconta la gioventù, va bene? La mia è bella, la mia è una bella gioventù Sei pronto Gianni? Va bene Ok, one, two, three, four Finché la marcava, lasciala andare, finché la marcava Non andremo mai Non andremo mai la marcava Io credo che viene veramente mal di mare quelli che ci seguono da casa Comunque anche questa puntata è finita, noi ci vediamo alla prossima Abbiamo terminato, sì, sì, la prossima sarà sempre più bella Più bella, è sempre più bella È sempre più bella Anche se devo dire che questa è stata proprio interessante a livello proprio di... Di portualità Di portualità Sì, è vero, abbiamo scoperto più tante cose interessanti Certo, certo Per esempio, ragazzi, Gianni Dei sul camion dell'immondizia non l'avevo mai visto Non solo su quello Ma anche sulla barca Anche loro Certo Anche Francesca Che è il genere Certo Certo Comunque, ragazzi Posso sempre dire che è stata nel camion dell'immondizia con Capitan Schick Non è da poco Una cosa che tutti per uno, come dici tu Uno per tutti Però facciamo dei per tutti Tutti per uno Uno per tutti La prossima puntata Sì, sì Sì Sì